Non sono servite a nulla le segnalazioni dei medici della Guardia America di Roccella Ionica che più volte avevano evidenziato negli ultimi eventuali alluvioni una criticità legata alle piogge e all'ingresso all'interno della struttura di acqua e fango. Infatti l'edificio di via Vittorio Emanuele di proprietà comunale da diversi anni è sede della Guardia America ma nonostante sia stata di recente ristrutturata ogni qual volta piove registra allagamenti di acqua e fango. Ieri mattina l'ennesima sorpresa dalla porta superiore una quantità di acqua e fango aveva completamente invaso la struttura rendendola difficilmente accessibile e nonostante le grandi difficoltà i medici hanno provato a smaltire la fila di pazienti che si trovavano all'esterno in attesa. Un problema di infiltrazioni di questo tipo rischia anche oltretutto di danneggiare gravemente la struttura. L'acqua ha fortemente danneggiato le pareti esterne ma anche all'interno i muri sono rigonfi e le porte addirittura alcune non si aprono più per i rigonfiamenti.